La situazione riscontrata nel processo è incompatibile a giudizio della Corte con la figura del ricattatore attribuita a Pecorelli, perché la forza del ricattatore è quella di minacciare la pubblicazione di una notizia scabrosa e non quella di pubblicarla, ovvero di fare conoscere solo ai diretti interessati e non al pubblico, vendendola la notizia scabrosa. Questo Pecorelli non l'ha mai fatto, Pecorelli invece le notizie scabrose le pubblicava e le pubblicava tutte, anzi io ritengo che la ragione per la quale Pecorelli è stato assassinato è proprio dovuta per impedirgli di pubblicare notizie scabrose. Ed è certo, e sono molti gli indizi che sono emersi durante il processo, che Pecorelli si preparava a pubblicare notizie importanti riguardo alla verità del caso Moro. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.